Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Nel cuore della notte i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Verona hanno concluso un blitz che ha portato all'arresto di una banda di rapinatori che uccise un ristoratore nel veronese. La vittima era stata sorpresa di notte dai banditi. Luciano Castellani, 72 anni, era il titolare della trattoria Agnella. Era stato massacrato di botte fino alla morte. Forse molti di voi ricorderanno quel terribile episodio. Le indagini hanno portato ad un gruppo di rumeni, alcuni individuati a Padova e altri in Romania. Alle tre i militari dell'arma, i colleghi rumeni si sono mossi simultaneamente a Padova e Costanza. Hanno accerchiato le abitazioni interessate e poi simultaneamente hanno fatto eruzione negli appartamenti occupati dagli indagati che colti di sorpresa nel sonno non hanno avuto nemmeno il tempo di reagire. In pochissimo tempo i componenti del gruppo si sono ritrovati in manette. Al termine delle operazioni di perquisizioni e identificazioni sono stati accompagnati in carcere. E c'è anche un'altra brillante operazione dei carabinieri che arriva dal Veneto. In poche ore i carabinieri di Padova hanno arrestato i tre uomini responsabili del tentato omicidio avvenuto ieri sera in un parcheggio della città. Sentite. In meno di 24 ore i carabinieri del comando di Padova hanno arrestato i tre autori dell'aggressione con rapina avvenuta nel parcheggio di un noto locale cittadino. Tre extracomunitari avevano accoltellato un tunisino, aggredito due donne che erano con lui e le avevano rapinate del cellulare. A far fuggire il trio e farli desistere era stato un intervento da parte dei parcheggiatori. In poche ore gli uomini dell'arma sono riusciti a individuarli e arrestarli. Si tratta di tre connazionali dell'aggredito, anche loro dunque tunisini. L'accoltellamento sarebbe arrivato all'epilogo di una discussione. Le donne sarebbero state aggredite perché cercavano di difendere il loro amico. Il ferito, che è stato colpito in varie parti del corpo, ha precedenti per piccoli reati di spaccio. I carabinieri sono arrivati ai tre tunisini grazie alle descrizioni dei volti e dell'auto usata. Sono stati rintracciati in due appartamenti del centro storico di Padova. Durante le perquisizioni sono stati scoperti indumenti sporchi di sangue e uno dei telefoni cellulari sottratto alle accompagnatrici della vittima, oltre a cinque coltelli, cinque telefoni e 1.490 euro in contanti. Il movente al momento non si conosce nel dettaglio. Gli aggressori conoscevano da tempo il loro connazionale ed è probabile che dietro al tentato omicidio ci siano questioni non risolte legate al mondo dello spaccio. Incidente mortale ieri pomeriggio lungo l'autostrada 4 tra Sanstino e Porto Gruaro in direzione Trieste per il tamponamento di un mezzo pesante da parte di un furgone. E' proprio il conducente del furgone nell'impatto ha perso la vita. I vigili del fuoco sono arrivati da Motta di Livenza, Porto Gruaro e Mestre, hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno estratto il corpo senza vita del conducente del furgone per il quale purtroppo non c'era nulla da fare. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato. E' chiusura con conseguenti code con disagi per i pendolari questa mattina a lungo l'autostrada 4 nel tratto Milano-Brescia-Seriate-Ponteoglio con direzione Venezia. La circolazione è stata interrotta per alcune ore con l'istituzione di uscite obbligatorie che ovviamente hanno richiesto lunghi tempi di percorrenza. Lo schianto è avvenuto nelle prime ore della mattina e ha coinvolto la viabilità per lunghe ore. Imponente operazione della Guardia di Finanza di Padova che è riuscita a smantellare una rete di spacciatori di droga attiva in città. Punto di snodo per i traffici era la stazione ferroviaria. Sentiamo tutti i particolari. Operazione della Guardia di Finanza di Padova contro lo spaccio di droga. Sequestrati quasi 6 chili di hashish, quasi mezzo chilo tra cocaina ed eroina, 40.500 euro in contanti, 3 automobili e 10 persone arrestate, 2 di nazionalità tunisina, 2 italiane e 6 di nazionalità marocchina. Un risultato brillante raggiunto dal gruppo della Guardia di Finanza di Padova nell'ambito di un'indagine coordinata dalla locale procura della Repubblica a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella città e nella provincia. L'attività investigativa è partita a novembre dopo il fermo alla stazione ferroviaria di un uomo marocchino che aveva in tasca 250 grammi di cocaina purissima, droga sequestrata che, se venduta al dettaglio, avrebbe fruttato circa 50.000 euro. Il conseguente sviluppo delle indagini, volte a ricostruire il contesto criminoso nascosto dietro l'uomo fermato, ha portato alla luce il collegamento con molte persone, per lo più di nazionalità marocchina, dedicate allo spaccio di hashish e cocaina a Padova e Limena. Persone a loro volta in contatto con connazionali operanti nel centro e nord Italia. Un gruppo di spacciatori che aveva eletto la stazione ferroviaria della città ha proprio snodo logistico e affaristico, soprattutto per l'acquisto delle partite di droga poi rivendute nella zona di Limena e nel quartiere Portello in città. L'operazione che si evidenzia per la rapidità ed efficacia del dispositivo di contrasto ha messo in luce ancora una volta l'importanza dei controlli allo snodo ferroviario di Padova, vero e proprio crocivia di molteplici attività illecite, dove la Guardia di Finanza opera ormai assiduamente, anche nell'ambito del dispositivo permanente, di contrasto ai traffici illeciti. 860 migranti sono arrivati al porto di Brindisi con la nave Aquarius dell'Associazione SAS Mediterranean. Sono stati salvati nel canale di Sicilia. Durante il trasporto a bordo del mezzo è nato anche un bambino. Ora tutti saranno smistati nelle varie regioni d'Italia e una parte arriverà in Veneto. Due studenti danesi nella notte hanno rubato una gondola a Venezia e hanno tentato di attraversare il Canal Grande. Protagonisti due studenti danesi di 18 anni erano completamente ubriachi. Sono stati sorpresi nella notte dal nucleo natante dei carabinieri che erano impegnati in controlli per la sicurezza del territorio. Nonostante l'intimazione a fermarsi, il giovane era una coppia, ha resistito. Tanto che un militare ha riportato una leggera contusione nelle fasi di abordaggio quando ha dovuto immobilizzare il diciottenne. Alla fine comunque la gondola è stata liberata dagli improvvisati gondolieri. I due danesi sono stati infine denunciati per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Venezia è blindata per domani, giornata del Redentore. È previsto un piano di sicurezza dettagliato e coordinato, un piano già sperimentato durante il Carnevale. Verrà regolamentato in modo speciale il traffico acqueo con la relativa sosta delle barche in bacino e così verrà regolamentato e gestito anche l'afflusso pedonale nelle varie zone della città. Verranno utilizzati dei varchi e i metal detector. Regolamentato, scusate, anche l'afflusso per i veicoli che dalla terraferma dovranno raggiungere Piazzale Roma. Allora ci soffermiamo proprio su questo punto e cerchiamo di capirne di più per chi dovrà raggiungere Venezia. Il Comandante Generale della Polizia Municipale, Marco Agostini, a Venezia ha emanato un'ordinanza che detta le misure a tutela della viabilità stradale in Piazzale Roma e adiacenze in occasione del Redentore. Dalle ore 12 di sabato 15 alle 3 di domenica 16 luglio, la Polizia Locale ha la facoltà di istituire il divieto di transito e di accesso dei veicoli nella rampa a Santa Chiara e in Piazzale Roma. In deroga è consentito il transito dei veicoli dei residenti in centro storico e nell'estuario composto auto nelle autorimesse di Piazzale Roma e rampa a Santa Chiara. Veicoli in possesso di prenotazioni online per il parcheggio al garage comunale, al garage San Marco e altri parcheggi autorizzati. Veicoli che devono accedere alla zona portuale di San Basilio. Veicoli di persone addette ai servizi pubblici essenziali e quelli di soccorso. Potranno ancora transitare veicoli adibiti al trasporto pubblico locale o utilizzati per il trasporto di persone diversamente abili, taxi e veicoli da noleggio con il conducente, oltre a biciclette, ciclomotori e motocicli. La Polizia Municipale è inoltre autorizzata a istituire la deviazione obbligatoria dei veicoli privati dal Ponte della Libertà alla rampa discendente verso l'isola nuova del Tronchetto. Alle 15.30 di oggi pomeriggio un uomo da solo è entrato nella filiale della Banca Popolare di Vicenza a Borgo Ricco in provincia di Padova. L'uomo era armato di taglierino, ha minacciato i presenti. Amaro il bottino è riuscito a raccimolare soltanto 20 euro, poi si è dovuto dileguare. Sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di individuarlo. I temporali e l'aria fresca pilotati da una staccatura giunta dal nord Europa in nottata hanno spazzato via l'AFA e riportato un clima un po' più respirabile in Veneto dopo il caldo soffocante degli ultimi giorni. Un cambio meteo che ha interessato soprattutto la pianura dove stamane la minima è arrivata addirittura a 17 gradi. Un salto termico all'ingiù di oltre 10 gradi rispetto a ieri. Le piogge e i temporali hanno interessato soprattutto la fascia pedemontana e la pianura con fenomeni che sono stati molto intensi in montagna. Tra breve sentiremo anche nel dettaglio le previsioni del tempo per capire un po' come si evolverà questa situazione. Adesso però è il momento dell'approfondimento con la storia. Allora la parola passa all'esperta Marisa Sottovia. Ben ritrovati, oggi parliamo della Villa dei Vescovi, una villa veneta che si trova nella frazione di Luvigliano del comune di Toreglia della provincia di Padova. È collocata nel cuore dei Colli Ugani e dalle sue loggie permette la visione di un panorama veramente straordinario. È di proprietà del FAI, Fondo Ambiente Italiano. E allora vediamo l'origine di questa villa. Fu voluta dal Vescovo Jacopo Zeno nel 1474 perché voleva costituire in questo luogo un edificio o edificare un edificio per il riposo dei Vescovi Padovani. Ma sarà successivamente che avrà un ampliamento nel 1501 per volere del Vescovo dell'epoca Francesco Pisani e l'incarico venne affidato all'architetto veronese Giovanni Maria Falconetto. Ancora poi i lavori del fondo e di assistenza vennero affidati invece ad Alvise Cornaro, un letterato, un esperto di agricoltura e di bonifica. Alla scomparsa del Falconetto, poi i lavori sono stati portati avanti dal suo allievo, l'architetto Andrea Davalle. Dal punto di vista architettonico, la villa è a pianta quadrata, si accede attraverso una doppia scalinata, inoltre le tre loggie appunto permettono una visione di un paesaggio mozzafiato e nella parte inferiore, il lato esterno, le pareti sono ricoperte da bugnato. Bugnato che è questa pietra particolare. All'interno si trova il piano nobile che è caratterizzato da stupendi affreschi e poi inoltre ci sono splendide sale, ne ricordiamo alcune, alcune a sala della fuga, del putto e da pranzo. Inoltre la villa dispone di affreschi meravigliosi, soprattutto quelli attribuiti al pittore olandese Lambert Sustris, che sono appunto a ispirazione mitologica. La villa conobbe un triste periodo durante la Seconda Guerra Mondiale in quanto divenne rifugio degli spollati. Rimarrà della proprietà della Curia Padovana fino al 1962. Successivamente è stata ceduta alla famiglia Olcese, che erano industriali di Milano. La villa cade in uno stato, dire, di abbandono e di degrado e sarà nel 2005 che viene donata al FAI. Il FAI avvia un restauro molto impegnativo e molto lungo, di sei anni circa, e nel 2011 viene aperta al pubblico e restituita al suo originario splendore. Quindi è una villa bellissima, sia dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista artistico, che appunto in questo periodo è ricca di iniziative, e quindi ecco che una visita ci permette di conoscere meglio questo bene storico. Grazie a Marisa Sottovia, esperta di storia, vi ricordo il suo appuntamento ogni fine settimana. E adesso diamo uno sguardo alle previsioni del tempo nel dettaglio. Domani sulla nostra regione giunge dall'Europa settentrionale una staccatura d'aria fresca. Il tempo volge comunque alla stabilità con prevalenza degli spazi di sereno anche per la successiva rimonta di un promontorio anticiclonico. Ritorno di una discreta attività nuvolosa sulle zone di montagna e un clima relativamente caldo, soprattutto alla fine della prossima settimana. È tutto per questa edizione, ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi auguro un buon fine settimana. Grazie a tutti. Autore dei sovrapposti